Ancora una settimana e molto probabilmente si conoscerà il futuro del Teramo. Iachini sta portando avanti trattative con imprenditori di fuori regione interessati al Teramo e dunque a breve dovrebbero esserci delle novità sul fronte societario. Si lavora per allargare la base societaria con l'ingresso di nuovi azionisti ma anche per la cessione della società. Di certo le trattative sono complesse e non facili. Tuttavia a livello dirigenziale siamo ai saluti. Andrea Iaconi avrebbe rescisso il contratto dallo scorso settembre e non sarà più il direttore generale del Teramo, mentre il DS Sandro Federico si è svincolato il 30 giugno ma potrebbe rinnovare per un altro anno. Il suo futuro dipenderà dall'organizzazione della società tra qualche settimana e da sciogliere il nodo allenatore. Non molto tempo fa è circolato il nome di Luciano Zauri ma potrebbe arrivare anche un tecnico esordiente come era accaduto per Massimo Paci legato ai nuovi ingressi in società. Per quanto riguarda i giocatori sono 12 gli elementi che si sono svincolati dal club bianco-rosso. Tra questi c'è Francesco Bombaggi che ha salutato il diavolo con richieste da Catanzaro e Modena. Stessa sorte potrebbe arrivare anche per Alberto Tentardini in seguito dal Catanzaro. Mungo e Arrigoni hanno il contratto per un altro anno e da loro si potrebbe ripartire. Diachite, Santoro e Piacentini appetiti da squadre di categoria superiore e con loro si punta a fare cassa. Grazie a tutti.